Questo video è stato prodotto da Riccardo Zigarini, El Vega, Nick Seiri e Giovanni Lanzoni. Il taccuino di Sherlock Holmes. L'avventura del vampiro del Sussex. Di Sir Arthur Conan Doyle. Lettura di Libri in pillole. Illustrazione di Lorenzo Bisogni. Musica di Paolo Cotrone. Ulms aveva letto attentamente un biglietto che gli era stato recapitato con la seconda posta. Poi, con quel risolino secco, il più prossimo equivalente per lui di una risata, me lo lanciò. Per una mescolanza di moderno e medievale, di praticità e di fantasia sfrenata, credo che questo sia davvero il massimo. Laic ne dice, Watson. Lessi quanto segue. Oggetto Vampiri. 46 Old Jury, 19 novembre. Signore, il nostro cliente, signor Robert Ferguson, della Ferguson & Muirhead, commercianti in tè, di Mincing Lane, ci ha richiesto informazioni in data odierna circa i vampiri. Dal momento che la nostra società si occupa esclusivamente di valutazione di impianti, l'argomento non rientra nel nostro campo e pertanto abbiamo consigliato al signor Ferguson di mettersi in contatto con lei per esporle il suo problema. Non abbiamo dimenticato il suo brillante intervento nel caso Matilda Briggs. Matilda Briggs non era una giovane donna, Watson, disse Holmes in tono di reminiscenza. Era una nave collegata al ratto gigante di Sumatra, una storia per la quale il mondo non è ancora pronto. Ma cosa sappiamo sui vampiri? È un argomento che rientra nel nostro campo? Tutto è meglio di questa calma mortale, ma sembra davvero che ci troviamo proiettati nel bel mezzo di una favola dei Grimm. Allunghi il braccio, Watson, e dia un'occhiata sotto la V. Mi piegai all'indietro per prendere il grosso volume di riferimenti del quale parlava. Holmes se lo appoggiò in bilico sul ginocchio, cominciando a scorrere con occhio attento e nostalgico i resoconti dei vecchi casi, mescolati alle informazioni raccolte lungo tutto il corso della sua vita. Viaggio della Gloria Scott, lesse. Brutto affare, quello. Ho la vaga impressione che lei ne abbia tratto uno dei suoi racconti, Watson, anche se il risultato non fu tale da spingermi a congratularmi con lei. Victor Lynch, il falsario, lucertola venosa o gila, un caso interessante. Vittoria, la bella del circo, Vanderbilt e lo Jagman, Vipere, Vigor, la meraviglia di Hammersmith. Guarda, guarda, caro vecchio librone, non sbaglia mai. Senta questo, Watson. Vampirismo in Ungheria. E ancora, vampiri della Transilvania. Voltava pagina dopo pagina con grande interesse, ma dopo un breve e attento esame scaraventò per terra il volume con un ringhio di delusione. Robaccia, Watson, robaccia. Cosa abbiamo a che fare noi con cadaveri ambulanti che possono essere costretti nella tomba solo trapassandogli il cuore con un bastone appuntito? Follia pura. Ma senza dubbio, gli dissi, il vampiro non era necessariamente un morto? Poteva anche essere un vivo. Ho letto, per esempio, di vecchi che succhiano il sangue dei bambini per mantenersi giovani. Ha ragione, Watson. È una leggenda citata in uno di questi riferimenti. Ma dobbiamo davvero prestare attenzioni a simili cose? Siamo gente con i piedi per terra noi e così dobbiamo restare. Il mondo è già abbastanza grande per noi. Non c'è bisogno che ci si mettano anche i fantasmi. Temo che non possiamo prendere il signor Robert Ferguson molto sul serio. Forse questo biglietto viene da lui e potrebbe illuminarci un po' su cosa lo preoccupa. Prese dal tavolo una seconda lettera che era rimasta dimenticata mentre era assorbito dalla prima. Cominciò a leggerla con un sorrisetto divertito che, via via, si trasformò in un'espressione di estremo interesse e concentrazione. Finito di leggere, rimase per un po' sovrappensiero con la lettera che gli ciondolava dalle mani. Poi, con un sussulto, si riscosse da quel suo sogno ad occhi aperti. Cheesemans, Lamberley. Dov'è Lamberley, Watson? Nel Sussex, a sud di Horsham. Non molto lontano, eh? E Cheesemans? Ma conosco quella zona, Holmes. È piena di vecchie case alle quali è stato dato il nome di chi le costruì secoli fa. C'è Odleys e Harveys e Carritons. Le persone sono state dimenticate, ma i loro nomi vivono in quelle case. Precisamente, disse in tono distaccato. Era tipico del suo carattere orgoglioso e riservato di non ringraziare, se non raramente, chiunque gli fornisse un'informazione, che comunque catalogava immediatamente e accuratamente nel cervello. Penso che ne sapremo un bel po' di più su Cheesemans e Lamberley, prima di aver finito. Come speravo, la lettera viene da Robert Ferguson. A proposito, dice di conoscerla. Conoscere me? Sarà meglio che la legga, mi porse la lettera. Portava lo stesso indirizzo della precedente. Caro signor Holmes, i miei avvocati mi hanno consigliato di rivolgermi a lei. Ma la faccenda è talmente delicata che è difficile parlarne. Riguarda un amico per conto del quale agisco. Circa cinque anni fa questo signore sposò una peruviana, figlia di un mercante peruviano che aveva incontrato in connessione con l'importazione di nitrati. La signora in questione era molto bella, ma il fatto che fosse straniera e di un'altra religione creava sempre una divergenza di interessi e di sentimenti fra lei e il marito, cosicché, dopo un certo tempo, il mio amico cominciò forse a raffreddarsi nei suoi confronti e a considerare il loro matrimonio come uno sbaglio. Sentiva che vi erano lati del carattere di sua moglie che non avrebbe mai potuto conoscere o capire. La situazione era tanto più penosa in quanto era la moglie più affettuosa che un uomo possa mai avere, in apparenza assolutamente devota. Veniamo ora al punto che le spiegherò meglio a voce quando ci incontreremo. In effetti, le ho scritto solo per darle un quadro generale della situazione e per sapere se è disposto a interessarsi del caso. La signora cominciò ad assumere degli strani atteggiamenti, del tutto contrari al suo carattere dolce e gentile. Era la seconda moglie del mio amico, il quale aveva avuto un figlio dalla prima. Questo ragazzo aveva allora 15 anni ed era molto caro e affettuoso, anche se, purtroppo, invalido per un incidente occorso gli durante l'infanzia. Due volte la moglie fu sorpresa nell'atto di aggredire questo povero ragazzo senza la benché minima provocazione. Una volta lo colpì con un bastone lasciandogli un profondo segno sul braccio, ma questo non era ancora niente rispetto a come si comportava col proprio figlio, un delizioso bambino di quasi un anno. Una volta, circa un mese fa, la nurse aveva lasciato il bimbo da solo per pochi minuti. Sentendolo urlare come di dolore, rientrò di corsa nella stanza e vide la signora china sul suo bambino nell'atto sembrava di mordergli il collo. E in effetti il piccolo aveva sul collo una piccola ferita da cui era uscito molto sangue. La nurse rimase talmente inorridita che voleva chiamare il padrone, ma la signora la scongiurò di non farlo e anzi le diede 5 sterline come prezzo del suo silenzio. Non venne mai data nessuna spiegazione e per il momento la cosa fu messa a tacere. La nurse però ne era rimasta molto impressionata e da allora cominciò a tenere d'occhio la padrona e a sorvegliare attentamente il bambino, che amava moltissimo. Ma ebbe l'impressione che come lei teneva d'occhio la madre, la madre tenesse d'occhio lei e ogni volta che era costretta a lasciare solo il piccolo, la madre aspettasse l'occasione buona per aggredirlo. Giorno e notte la nurse proteggeva il bambino e giorno e notte la madre, silenziosa e vigile, sembrava stare in agguato come un lupo con un agnello. A leggerlo le sembrerà incredibile, ma la prego di prendermi sul serio perché potrebbero essere in gioco la vita di un bambino e la sanità mentale di un uomo. Alla fine arrivò un terribile giorno quando non fu più possibile tenere il marito all'oscuro. La nurse aveva i nervi a pezzi, non ce la faceva più, e gli raccontò ogni cosa. Gli sembrò, come probabilmente ora sembra a lei, una storia incredibile. Sapeva che sua moglie era una tenerissima moglie e, eccezion fatta per le aggressioni al figliastro, una tenerissima madre. Perché mai avrebbe dovuto far del male al suo adorato bambino? Disse alla nurse che stava sognando, che i suoi erano sospetti di una pazza e che non avrebbe tollerato quelle calunnie su sua moglie. Mentre discutevano risuonò all'improvviso un grido di dolore. I due corsero insieme nella nursery. Immagini quello che provò il mio amico, signor Holmes, vedendo la moglie rialzarsi dalla sua posizione in ginocchio accanto alla culla e scorgendo del sangue sulla gola del bambino e sul lenzuolo. Con un grido di orrore girò il volto della moglie verso la luce e le vide un alone di sangue intorno alla bocca. Era stata lei. Lei senza alcun dubbio a succhiare il sangue di quella povera creaturina. Ora la situazione è questa. La donna è confinata nella sua camera. Non ha fornito alcuna spiegazione. Il marito è sull'orlo della pazzia. Lui ed io sappiamo ben poco del vampirismo oltre al nome. Avevamo sempre creduto che si trattasse di una qualche fantasiosa leggenda straniera e invece proprio qui nel cuore del Sussex, beh, di tutto questo potremo parlare domattina. Acconsentirà a ricevermi? Acconsentirà ad usare le sue straordinarie capacità per aiutare un uomo prostrato e sconvolto? In caso affermativo, abbia la cortesia di telegrafare a Ferguson, Chismans-Lemberley, e sarò da lei alle 10 di domani mattina. Con i migliori saluti, Robert Ferguson. PS. Credo che il suo amico Watson abbia fatto parte della squadra di rugby del Black Heath quando io giocavo come tre quarti in quella del Richmond. È l'unica presentazione personale che posso fornirle. Ma certo che me lo ricordo, dissi posando la lettera. Big Bob Ferguson, il miglior tre quarti che il Richmond abbia mai avuto. È sempre stato un bravo ragazzo, è proprio da lui preoccuparsi tanto per un amico. Holmes mi guardò pensieroso, scuotendo la testa. Non mi rendo mai conto dei suoi limiti, Watson, disse. Lei è davvero una fonte di possibilità inesplorate. Faccia il bravo, vada a spedire un telegramma. Mi occuperò volentieri del suo caso. Il suo caso! Non dobbiamo lasciargli credere che questo sia un ospizio per malati di mente. Certo che è il suo caso. Gli mandi quel telegramma e poi lasciamo le cose come stanno fino a domattina. Puntuale, alle dieci del mattino seguente, Ferguson entrò nella nostra stanza. Lo ricordavo come un uomo alto, squadrato, dotato di un'agilità e di una velocità che lo avevano portato alle spalle di molti attaccanti. Certo, non c'è nulla di più deprimente nella vita che incontrare un atleta conosciuto nel fiore degli anni e oramai ridotto a urrudere. La sua imponente ossatura si era come afflosciata. I capelli biondi erano molto radi, le spalle incurvate. E temo che anche lui, vedendomi, provasse le stesse sensazioni. Salve, Watson, disse, e la sua voce era rimasta profonda e cordiale. Sei un po' diverso dall'uomo che ho gettato oltre le corde. Salve, Watson, disse, e la sua voce era rimasta profonda e cordiale. Sei un po' diverso dall'uomo che ho gettato oltre le corde sugli spettatori all'Olde Park. Immagino che anche io sia un po' cambiato. Ma sono questi ultimi giorni che mi hanno fatto invecchiare. Vedo dal suo telegramma, signor Holmes, che è inutile fingere di venire per conto di qualcun altro. È più semplice trattare direttamente, rispose Holmes. Ha ragione. Ma puoi immaginare come sia difficile quando si parla dell'unica donna che uno si è impegnato a proteggere ed aiutare. Cosa posso fare? Come posso andare alla polizia con una storia del genere? Eppure è necessario proteggere i bambini. Si tratta di pazzia, signor Holmes? Di qualcosa nel sangue? Ha incontrato mai un caso simile? Per l'amor di Dio, mi dia un consiglio perché non so più dove battere la testa. È molto naturale, signor Ferguson. Ora si accomodi, si tranquillizzi e risponde a qualche mia domanda. Le assicuro che io so ancora benissimo dove battere la testa e sono sicuro che troveremo una soluzione. Per prima cosa, mi dica quali iniziative ha preso. Sua moglie è ancora in contatto con i bambini? C'è stata una scenata terribile. È una donna molto affettuosa, signor Holmes. Semmai una donna amò un uomo con tutto il cuore e tutta l'anima. Questa è lei. Il fatto che io abbia scoperto questo orribile, incredibile segreto l'ha sconvolta. Non ha voluto nemmeno parlare. Non ha risposto ai miei rimproveri. Si è limitata a guardarmi con uno sguardo angosciato, disperato. Poi è corsa in camera sua e si è chiusa dentro a chiave. Da allora si è rifiutata di vedermi. Ha una domestica che era con lei da prima che ci sposassimo. Si chiama Dolores. Un'amica più che una domestica. È lei che le porta da mangiare. Allora il bambino non è in pericolo immediato. La signora Mason, la nurse, ha giurato di non lasciarlo né notte né giorno. Posso fidarmi ciecamente di lei. Sono più preoccupato per il povero Jack poiché, come le ho scritto, lo ha aggredito due volte. Ma non lo ha mai ferito? No, lo ha colpito selvaggiamente. E la cosa più terribile è che è un povero sciancatello inoffensivo. I lineamenti taglienti di Ferguson si ammorbidirono mentre parlava del ragazzo. Si crederebbe che le sue condizioni muoverebbero a compassione chiunque. Una caduta da bambino e una lesione alla spina dorsale, signor Holmes. Ma è rimasto il ragazzo più caro e dolce che ci sia. Holmes stava rileggendo la lettera del giorno prima. Chi altro abita nella casa, signor Ferguson? Due domestici che sono con noi da poco. Uno stalliere, Michael, che dorme in casa. Mia moglie, io. Mio figlio Jack, il bambino. Dolores e la signora Mason. Questo è tutto. Mi è parso di capire che lei non conoscesse a fondo sua moglie quando vi siete sposati. La conoscevo solo da poche settimane. E da quanto tempo è con lei questa Dolores? Da qualche anno. Allora Dolores la conosce meglio di lei. Sì, si potrebbe dire così. Holmes prese nota. Immagino, disse, che sarei più utile a Lamberley che qui. È un caso che richiede soprattutto un'indagine personale e diretta. Se la signora rimane nella sua stanza, la nostra presenza non le darà alcun disturbo. Naturalmente alloggeremo alla locanda. Ferguson ebbe un gesto di sollievo. È ciò che speravo, signor Holmes. C'è un ottimo treno alle due da Victoria, se lei vuole venire. Certo che verremo. In questo periodo non sono molto occupato. Posso dedicarle tutte le mie energie. Naturalmente Watson verrà con noi. Ma ci sono prima un paio di punti sui quali vorrei essere sicuro prima di partire. Se ho ben capito, questa infelice signora, a quanto pare, ha aggredito entrambi i bambini. Il suo e quello della sua prima moglie. Esattamente. Ma si è trattato di aggressioni diverse, no? Ha picchiato suo figlio. Una volta con un bastone, una volta selvaggiamente con le mani. E ha detto per quale motivo? No, tranne che lo odiava e lo ha ripetuto varie volte. Beh, una cosa che capita con le matrigne. Diciamo una gelosia postuma. La signora è gelosa di natura? Sì, molto. Gelosa con tutta la vehemenza del suo appassionato amore tropicale. Ma il ragazzo, se non sbaglio, ha quindici anni e probabilmente ha una mente molto sviluppata, vista la costrizione cui è soggetto il corpo. Lui le ha in qualche modo spiegato il motivo di quelle aggressioni? No, ha detto che erano del tutto immotivate. A parte questi episodi, andavano d'accordo per il resto del tempo? No, non c'è mai stato affetto tra loro. Eppure lei dice che è un ragazzo affettuoso. Non c'è al mondo figlio più devoto. La mia vita è la sua vita. È totalmente preso da ciò che io dico o faccio. Holmes prese nuovamente nota. Per un po' rimase a pensare in silenzio. Senza dubbio, prima di questo matrimonio, lei e il ragazzo eravate grandi camerati. Eravate molto vicini l'uno all'altro, no? Moltissimo. E il ragazzo, visto il suo temperamento, era sicuramente molto affezionato al ricordo della madre. Affezionatissimo. Mi sembra un ragazzo molto interessante. C'è un'altra cosa circa queste aggressioni. Quelle contro il bambino e quelle contro suo figlio sono avvenute nello stesso periodo? Nel primo caso, sì. Fu come se l'avesse presa una frenesia e si fosse scagliata contro entrambi. La seconda volta è stato solo Jack a soffrirne. La signora Mason non aveva nulla da lamentarsi circa il bambino. E questo complica la situazione. Non la seguo, signor Holmes. Può darsi. Uno formula delle ipotesi provvisorie, in attesa che il tempo o gli altri elementi le confermino o le neghino. Brutta abitudine, signor Ferguson, ma è una debolezza umana. Temo che il suo vecchio amico qui presente abbia tracciato un quadro esagerato dei miei metodi scientifici. Comunque per ora mi limito a dire che il suo problema non mi pare insolubile e che ci troverà alla stazione Victoria alle due. Era una serata cupa e nebbiosa di novembre, quando dopo aver lasciato i bagagli al Checkers, la locanda di Lamberley, percorremmo in carrozza il terreno argilloso del Sussex lungo un viale tortuoso, fino a raggiungere l'antica e isolata casa colonica dove abitava Ferguson. Un fabbricato grande ed esteso, con un corpo centrale molto antico, due ali recentissime, alti camini di stile Tudor e un tetto a spioventi acuti macchiato di licheni costruito a lastroni. I gradini erano consunti al centro fino ad essere concavi, e le antiche tegole che rivestivano il portico portavano il marchio di un uomo con una forma di formaggio, dal nome del costruttore originario. All'interno i soffitti erano solcati da pesanti travi di quercia e il pavimento sconnesso aveva qua e là ceduto. Da tutta quella enorme casa fatiscente emanava un odore di vecchiaia e decadimento. Ferguson ci condusse in una grandissima sala centrale dove, in un enorme e antico caminetto con un paravento di ferro sul retro, che recava la data 1670, ardeva e scoppiettava un magnifico fuoco di ceppi. Guardandomi intorno notai che la stanza era uno strano miscuglio di date e di luoghi. Le pareti rivestite a metà di legno potevano benissimo risalire all'antico proprietario terriero del XVII secolo, ma nella parte inferiore erano decorate da una serie di moderni acquerelli scelti con molta cura. Nella parte superiore, invece, dove i pannelli di quercia erano sostituiti da stucco giallo, era appesa una bella collezione di utensili ed armi sudamericane, senza dubbio portate dalla signora peruviana, chiusa nella sua stanza al piano superiore. Holmes si alzò, con quella scattante curiosità propria della sua mente inquisitrice, e li esaminò molto attentamente. Tornò a sedersi pensieroso. «Allò?» esclamò. «Allò!» Uno spaniel era sdraiato dentro una cesta, nell'angolo. Avanzò lentamente verso il padrone, camminando con difficoltà. Le zampe posteriori si muovevano in modo strano, e la coda sfiorava il pavimento. Leccò la mano di Ferguson. «Che c'è, signor Holmes?» «Il cane, cos'ha?» «E' quello che il veterinario non è riuscito a capire. Una specie di paralisi. Ha pensato a una meningite spinale, ma sta guarendo. Fra poco starai bene, non è vero, Carlo?» Un fremito, come di assenso, fece tremolare la coda abbassata. Il cane volse il suo sguardo triste dall'uno all'altro di noi sapeva che stavamo parlando di lui. «È successo improvvisamente?» «In una sola notte. E quanto tempo fa?» «Saranno quattro mesi.» «Molto interessante, molto suggestivo.» «Cosa ci trova, signor Holmes?» «Una conferma di quanto avevo già pensato.» «Per amor di Dio, che cosa pensa, signor Holmes? Per lei forse è solo un esercizio intellettuale, ma per me è una questione di vita o di morte. Mia moglie è una potenziale assassina, il mio bambino in costante pericolo. Non giochi con me, signor Holmes. È una cosa terribilmente seria.» Il massiccio regbista tremava da capo a piedi. Holmes gli posò una mano sul braccio per tranquillizzarlo. «Temo che la soluzione, quale che essa sia, le procurerà un gran dolore, signor Ferguson», disse. «Cercherò di risparmiarla al massimo. Per ora non posso dire di più, ma prima di lasciare questa casa spero di avere qualcosa di definito.» «Dio lo voglia! Se mi scusate, signori, salgo in camera di mia moglie per vedere se c'è stato qualche cambiamento.» Rimase assente per qualche minuto, durante i quali Holmes esaminò ancora una volta quegli strani oggetti appesi alla parete. Quando tornò, era chiaro dal suo viso che non c'era stato alcun progresso. Portò con sé una ragazza alta, esile, dalla pelle scura. «Il tè è pronto, Dolores», disse Ferguson. «Veda che la signora abbia tutto ciò che desidera.» «Lei molto malata!» esclamò la ragazza lanciando uno sguardo indignato al padrone. «Lei non chiede mangiare! Lei molto malata! Necessario dottore! Io ho spaventato a stare sola con lei senza dottore.» Ferguson mi guardò con una muta domanda negli occhi. «Sarei felicissimo di rendermi utile.» «La signora sarebbe disposta a vedere il dottor Watson?» «Io portare lui! Non chiedere permesso! Lei bisogno, dottore!» «Vengo con lei.» Seguì la ragazza, tremante e spaventata, su per le scale lungo un antico corridoio. Alla fine c'era una massiccia porta rinforzata con sbarre di ferro. Guardandola pensai che, se Ferguson avesse cercato di entrare a forza nella stanza della moglie, non ci sarebbe riuscito tanto facilmente. La ragazza trasse di tasca una chiave e i pesanti battenti di quercia cigolarono sui cardini. Entrai, e Dolores mi seguì chiudendosi la porta alle spalle. Sul letto era distesa una donna chiaramente in preda a febbre alta. Non era del tutto cosciente, ma al mio ingresso volse verso di me due begli occhi spaventati e ansiosi. Vedendo uno sconosciuto, sembrò rilassarsi e con un sospiro si abbandonò sul cuscino. Rivolgendole qualche parola per tranquillizzarla, le presi il polso e la temperatura. Le pulsazioni erano affrettate, la temperatura alta, ma ebbi l'impressione che la sua malattia fosse più mentale e nervosa che fisica. Sta così un giorno, due giorni, io ho paura, lei muore, disse la ragazza. La donna volse verso di me il bel viso arrossato. Dov'è mio marito? Al piano inferiore, e vorrebbe vederla. Non lo voglio vedere, non lo voglio vedere. Poi sembrò divagare nel delirio. Un demonio, un demonio! Cosa posso fare con questo demonio? Posso aiutarla? No, nessuno può aiutarmi. È finita. Tutto è distrutto. Qualunque cosa io faccia, tutto è distrutto. La donna doveva essere in preda a qualche morbosa fantasticheria. Non riuscivo proprio a vedere l'onesto Bob Ferguson nei panni di un demonio. Signora, le dissi, suo marito l'ama teneramente. È profondamente addolorato per ciò che sta succedendo. Mi guardò di nuovo con quei suoi splendidi occhi. Mi ama, sì. Ma che forse io non amo lui? Non lo amo al punto di sacrificarmi pur di non spezzargli il cuore? Ecco come lo amo. Eppure ha potuto pensare, ha potuto pensare di me in quel modo. È sconvolto dal dolore, ma non riesce a comprendere. No, non può comprendere, ma dovrebbe avere fiducia. Proprio non vuole vederlo. Le chiesi. No, no, non riesco a dimenticare quelle sue terribili parole e quel suo sguardo. Non voglio vederlo. Adesso vada. Lei non può far nulla per me. Una cosa gli dica. Voglio il mio bambino. Ho diritto di avere il mio bambino. È l'unico messaggio che posso mandargli. Si girò con la faccia al muro e non disse più una parola. Tornai da basso, dove Ferguson e Holmes sedevano accanto al fuoco. Ferguson ascoltò cupamente il resoconto della mia visita. Come posso mandarle il bambino? Esclamò. Come posso sapere quale strano impulso può prenderla? Come posso dimenticare il momento in cui si è alzata dalla culla con le labbra insanguinate? Rabbrividì al ricordo. Il bambino è al sicuro con la signora Mason. E là deve rimanere. Un elegante cameriera, l'unica cosa moderna di quella casa, aveva portato il tè. Mentre lo stava servendo la porta si aprì ed entrò un giovane. Un ragazzo singolare, pallido e biondo, con occhi azzurro chiaro, nei quali brillò un subitaneo lampo di emozione e di gioia quando si posarono sul padre. Gli corse vicino abbracciandolo con l'abbandono di una fanciulla innamorata. Oh papà! gridò. Non ti aspettavo così presto. Ti sarei venuto incontro. Oh sono così felice di vederti. Ferguson si svincolò dolcemente da quell'abbraccio un po' imbarazzato. Vecchio mio, disse carezzandogli teneramente i capelli biondi. Sono tornato presto perché i miei amici, il signor Holmes e il dottor Watson, hanno consentito a seguirmi per passare la serata con noi. È il signor Holmes l'investigatore? Sì. Il ragazzo ci osservò con uno sguardo molto penetrante e mi parve piuttosto ostile. E l'altro suo figliolo, signor Ferguson? chiese Holmes. Non potremmo conoscerlo? Di alla signora Mason di portar giù il bambino, disse Ferguson. Il ragazzo si allontanò con una strana andatura adinoccolata che, con l'occhio del medico, diagnosticai dovuta a una debolezza della spina dorsale. Tornò subito dopo seguito da una donna alta e magra che portava in braccio un bellissimo bambino, biondo, con gli occhi scuri, uno stupendo incrocio di sangue sassone e latino. Ovviamente Ferguson lo amava molto perché lo prese in braccio coccolandolo teneramente. Chi potrebbe mai avere il coraggio di fargli del male? Mormorò guardando la piccola cicatrice rossa sulla gola di quell'angioletto. Fu in quell'attimo che, per caso, mi cadde l'occhio sul viso di Holmes e notai la strana intensità della sua espressione. Sembrava una faccia scolpita nell'avorio antico e lo sguardo, che per un momento era passato dal padre al bambino, fissava ora con singolare curiosità qualcosa all'altro lato della stanza. Seguendo quel suo sguardo, pensai che stesse osservando fuori dalla finestra, notando il giardino malinconico e sgocciolante di pioggia. È vero che all'esterno una mezza persiana si era chiusa e in parte ostruiva la vista, ma senza dubbio era proprio la finestra che Holmes stava fissando con tanta concentrata attenzione. Poi sorrise e tornò a guardare il bambino. Sul collo grassoccio spiccava la piccola cicatrice. Senza parlare, Holmes la esaminò con cura. Alla fine prese una delle manine con le fossette che gli si agitavano davanti. Arrivederci, ometto. Hai iniziato la tua vita in modo strano. Nurse, vorrei scambiare due parole con lei, in privato. La trasse da parte e parlò concitatamente per pochi minuti. Sentì solo le ultime parole. Spero che presto potrà stare tranquilla. La donna, che sembrava una creatura silenziosa e scorbutica, si ritirò col bambino. «Che tipo è la signora Mason?» chiese Holmes. «Esteriormente niente di speciale, come ha visto, ma un cuore d'oro e attaccatissimo al bambino». «A te piace, Jack?» disse Holmes volgendosi improvvisamente al ragazzo, il cui viso espressivo si oscurò mentre scuoteva la testa. «Jack è molto deciso nelle sue simpatie e antipatie», disse Ferguson, circondando col braccio le spalle del ragazzo. «Per fortuna, io gli sono simpatico». Il ragazzo mugolò appoggiando la testa sul petto del padre. Con gentilezza, Ferguson lo spinse via. «Ora scappa, piccolo Jack», gli disse e lo osservò con affetto mentre si allontanava. «Sa, signor Holmes», continuò quando il ragazzo si fu allontanato, «ho davvero l'impressione di averle fatto fare un viaggio a vuoto. Infatti cosa può fare se non offrirmi la sua comprensione? Dal suo punto di vista, il caso deve apparirle estremamente delicato e complesso». «Delicato, certamente», rispose Holmes con un sorriso divertito. «Ma molto complesso, non direi». «Ha richiesto delle deduzioni mentali, ma una volta che queste deduzioni sono confermate punto per punto da vari incidenti separati, il soggettivo diventa oggettivo e, possiamo onestamente dire, di aver raggiunto lo scopo. In effetti l'avevo raggiunto già prima di lasciare Baker Street. Tutto il resto non è stato che osservazione e conferme». Ferguson si portò la grossa mano alla fronte. «Per amor del cielo, Holmes», esclamò con voce roca, «se lei riesce a vedere la verità in questa faccenda, non mi tenga sulle spine. A che punto mi trovo? Cosa devo fare? Non mi importa di come abbia scoperto la verità, purché l'abbia davvero scoperta». «Le debbo una spiegazione, e l'avrà. Mi consente però di agire a modo mio. La signora è in condizioni di riceverci, Watson?» «Sta male, ma è perfettamente lucida». «Benissimo. È solo in sua presenza che potremo chiarire la situazione. Saliamo da lei». «Non vorrà vedermi», gridò Ferguson. «Oh sì che lo vorrà», disse Holmes. Scrisse frettolosamente poche righe su un foglio di carta. «Almeno lei ha ingresso libero, Watson. Vuole per cortesia consegnare alla signora questo biglietto?» Salì di nuovo e diedi il foglietto a Dolores, che mi aprì cautamente la porta. Un attimo dopo sentì un grido dall'interno, un grido in cui sembravano fondersi gioia e stupore. Dolores si riaffacciò. «Li riceverà, ascolterà», disse. Chiamai Ferguson e Holmes che salirono di sopra. Quando entrammo nella stanza, Ferguson fece un passo o due verso sua moglie, che si era alzata a sedere sul letto. Ma la donna tese la mano a respingerlo. Ferguson si lasciò cadere in una poltrona e Holmes gli sedette accanto, dopo aver fatto un inchino alla signora, che lo guardava occhi spalancati, pieni di stupore. «Penso che potremo fare a meno di Dolores», disse Holmes. «Oh, benissimo, signora. Se lei preferisce che rimanga, io non ho obiezioni. Dunque, signor Ferguson, io sono un uomo molto occupato, con molti impegni, e devo necessariamente essere diretto e stringato. L'operazione più rapida è la meno dolorosa. Per prima cosa voglio tranquillizzarla. Sua moglie è una donna molto buona, molto affettuosa e molto calunniata. Ferguson si rizzò sulla poltrona con un grido di gioia. «Me lo dimostri, signor Holmes. Le sarò per sempre debitore. Lo farò, ma per farlo dovrò infliggerle un'altra profonda ferita. Non mi importa purché lei possa discolpare mia moglie. In confronto a lei, tutto il resto della terra non ha alcuna importanza». Mi consenta allora di illustrarle il ragionamento che mi è passato per la mente a Baker Street. L'idea del vampiro mi sembrava assurda. Cose del genere non rientrano nella criminalità inglese. Ma le sue osservazioni erano precise. Lei aveva visto la signora rialzarsi dalla culla del bambino con le labbra insanguinate. «E così!» Non le è venuto in mente che si può succhiare una ferita aperta per altri scopi che non quello di tirarne il sangue. Nella storia inglese non c'è forse stata una regina che succhiò una ferita per trarne fuori del veleno? «Veleno?» Una famiglia sudamericana, il mio istinto, sentiva la presenza di quelle armi sulla parete prima ancora che i miei occhi le vedessero. Quando notai la piccola faretra vuota accanto al minuscolo arco per uccelli, era proprio quello che mi aspettavo di vedere. Se il bambino fosse stato graffiato con una di quelle frecce intinte nel curaro o in qualche altra infernale droga, sarebbe morto se il veleno non fosse stato succhiato fuori. «E il cane?» Se qualcuno intendeva servirsi di quel veleno, non lo avrebbe prima sperimentato per vedere se non aveva perso la sua virulenza? «Non avevo previsto il cane, ma appena l'ho visto l'ho collocato nella mia ricostruzione. Capisce ora?» Sua moglie temeva un attacco del genere, lo vide mentre veniva compiuto e salvò la vita al bambino, ma evitò di dirle la verità perché sapeva quanto lei amasse il ragazzo e non voleva spezzarle il cuore. «Jackie!» L'ho osservato poco fa, mentre lei coccolava il bambino. Il suo viso si rifletteva chiaramente nel vetro della finestra, sullo sfondo della persiana chiusa. Escorsi una tale gelosia, un tale odio crudele, quali raramente ho visto su un viso umano. «Il mio Jackie!» Deve affrontare la realtà, signor Ferguson, che è ancora più penosa perché si tratta di un amore contorto, un amore maniacale, morboso per lei e forse per la madre morta che lo ha spinto ad agire. Si sta consumando l'anima con odio per questo splendido bambino, bello e sano, mentre lui è malaticcio. «Mio Dio, è incredibile!» «Ho detto la verità, signora?» La donna si inghiozzava col viso nascosto nel cuscino, ora si volse al marito. «Come potevo dirti una cosa simile, Bob? Sapevo che colpo sarebbe stato per te. Meglio aspettare che fosse qualcun altro a dirtelo. Quando questo signore, che sembra avere poteri magici, ha scritto che sapeva tutto, ne sono stata felice.» «Penso che un anno in un posto di mare sarebbe la mia prescrizione per il signorino Jackie», disse Holmes alzandosi. «C'è ancora una cosa non molto chiara, signora. Possiamo capire benissimo le sue aggressioni al signorino Jackie. La pazienza di una madre ha un limite, ma come ha avuto il coraggio di lasciare il bambino in questi ultimi due giorni.» «Avevo informato la signora Mason. Lei sapeva.» «È quello che pensavo.» Ferguson era in piedi accanto al letto, con le mani tese e tremanti. «Ho l'impressione, Watson, che questo sia il momento in cui dobbiamo uscire di scena», sussurrò Holmes. «Se lei prende un braccio della troppo fedele Dolores, io prenderò l'altro.» «Bene», aggiunse mentre si chiudeva la porta alle spalle. «Credo che possiamo lasciarli a risolvere il resto da soli.» Ho solo un'altra annotazione su questo caso, la lettera che Holmes scrisse come risposta a quella con cui si è aperto il mio racconto. Diceva così. «Baker Street, 21N. Oggetto Vampiri.» «Egregio signore, con riferimento alla sua lettera del 19 US, desidero informarla che ho esaminato la richiesta del vostro cliente, il signor Ferguson, della Ferguson e Muirhead commercianti in tè di Mincing Lane, e che la sua cosa è stata portata a felice conclusione. Ringraziandola per la sua raccomandazione, con distinti saluti. Sherlock Holmes. 결 Grazie a tutti.